4 marzo viene riconsegnata la scuola dell'infanzia Aldo Moro, perfettamente ridipinta, ripristinata, debellata all'umidità. Ringraziamo le autorità, l'ente locale, ovviamente l'impresa, il sindaco Varone, l'assessore Garofoli e tutti coloro che si sono interessati alla situazione. Tra poco i bambini andranno a vedere il libro della giungla, ma qui non posso riprenderli, vedete che è tutto stato perfettamente ridipinto, ripristinato, dal pavimento che era quello più umido fino al soffitto. Ecco qua. Grazie. Ecco, posso fare un video? Non ci sono i bambini? Sindaco, un saluto che chiudo. Ho già parlato un po' io e... Buona conclusione della nuova... Vuoi fare un saluto? Sì, sì, ma siamo venuti per salutare i bambini, le bambine, le loro famiglie e controllare le ultime cose, ma è tutto a posto. È il bambino preside. Esatto.